non possono farli tutti così i menù di videogames bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono FabiJ ed oggi visto che è finito Inside cominciamo una nuova serie mica come sono stato teatrale allora ragazzi mi avete martellato il pene durante l'ultimo periodo per farmi fare Life is Strange allora io vi giuro su me stesso che io non so un cazzo cioè nel senso sto gioco è famosissimo però non ho mai giocato non ho mai neanche visto niente non ho letto neanche l'altra non so neanche di che cosa tratta però me l'avete consigliato tutti sarà figo possono essere tutti deficienti bene ragazzi allora premi un pulsante io premo la Q perché sono trasgre tolata giù uno tutto in italiano pure godibile commenti dei registi alla madonna vabbè tra l'altro ragazzi ho visto che ha episodi quindi ci sono più episodi questo è il primo nuova partita e va bene iniziamo ragazzi sembra molto carino life is strange le conseguenze le azioni e le decisioni avranno effetto sul passato sul presente e sul futuro ok però stai calmo ho detto stai calmo cos'è ma come era tutto carino oddio salve giornata di merda eh ho dimenticato l'ombrello uscita di gas scommetti che stai pure andando a scuola quindi ancora più merda la giornata vabbè almeno sei una figa mi sembra la grafica di The Walking Dead ragazzi tipo il gioco punta e clicca ok oh ok devo arrivare al faro beh mi chiama è bellissimo che figlio no ragazzi io l'amo sta grafica ve lo dico è bellissima la grafica così è veramente stupenda ma poi io pensavo fosse punta e clicca no 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 niente ho sbagliato lighthouse andiamo al faro niente ragazzi ci siamo risvegliati con questa pezza di gnocca pure si è carina parecchio sono singole eh mi guardo infatti intanto stavo sbattendo sui tronchi ci siamo risvegliati che siamo in mezzo a una tempi è la madonna ma beh non è un po' esagerato raga ma serio ma che che ma veramente avevo sentito che c'era il meteo che ti metteva brutto ma non pensavo proprio così brutto porca vacca qua l'ombrello non ti serve a niente credo eh merda sì zio ma è un tornado sì ma è veramente così gro minchia ma che giornata di merda che è successo ok ah io devo interagire durante la lezione pure già non so un cazzo di mio come faccio a interagire ah posso interagire con le cose fatti un selfie durante la lezione ma vera ma che cazzo così a caso vabbè ah io lo so io questo aspetta fermi no 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 allora nel 1715 Sir Favij disse lo sta chiedendo a me che cazzone però vabbè c'ero vicino eh raga da sai che sta macchina fotografica ti starebbe bene bene nel culo comunque ragazzi interagire in classe non è proprio la mia dot e non l'è mai stata quindi non che è successo ah ok posso già muovermi non faccio spesso videogiochi narrativi però questo sembra veramente carino senti ma i capi li laviano a 90 gradi o sei solo tu che ti metti a 90 non sto scherzando non sto scherzando vabbè ragazzi fotte sega basta che usciamo dove come si esce di qua quello di prima comunque era un sogno vabbè nel dubbio ho fatto un selfie zia che sta facendo perché ha appoggiato la gamba non sei figa se appoggi la gamba sul muro vabbè la sciamperta ecco questa non è esattamente il tipo di musica che mi ascolto io con le cuffiette zia però va bene fai quello che vuoi possiamo andare bene che bello life is strange fantastico non ho capito ancora di che tratta però forse di viaggi Justin sei proprio tu ah no 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 non è Bieber minchia da dietro poteva anche sembrare vabbè cazzo è PewDiePie poster persona scomparsa è la madonna Rachel Ember me lo ricorderò quello di prima sicuramente non era un sogno oh eccomi ci sono anch'io bagno eccolo l'ho trovato perfetto allora madonna le crisi di nervi mi sembra un po' esagerato parlare di crisi di nervi ti sei solo fatta un selfie zia cioè ripigliati posso chiederti che cosa devi fare nel bagno devi pisciare cosa devi fare distributore di assorbenti vortex club jerks che cos'è il vortex club sarebbe tipo un club privato della scuola non sono a posto grazie perché c'è una farfalla mi spiegate perché c'è una farfalla campana antincendio posso veramente fare quello che penso no perché ho sempre sognato di fare questa cosa ma non l'ho mai fatto non ero io posso fare una foto alla farfalla yes ma questo è il bagno delle donne o il bagno degli uomini non ho capito ok ok quindi cosa vuoi Eh vabbè No no aspetta Veramente Lo sapevo Lo sapevo E' tornata indietro Lo sapevo che non era un sogno No vabbè non c'ho parole Bellissimo Ho appena capito di cosa tratta sto gioco E' bellissimo Come? Come è successo sta roba? Cazzo Ti ho premuto il tasto destro del mouse per riavvolgere il tempo? Ma stai scherzando? Ma quanto figo No Non ho parole raga Vi giuro non ho parole bellissimo Adesso mi scatto un selfie E facciamo tutto come prima No ragazzi Bellissimo Minchia quanto sarebbero state semplici le interrogazioni così Minchia Minchia non me lo ricordo raga Qual'era la risposta? Devo... devo andare in... non se lo ricorda manco lei Perché il gusto di dirlo giusto Minchia ci stava Però secondo me non lo ricorda manco lei Ah quindi non posso Devo tornare indietro Per questa informazione potrei utilizzare se riavvolgi il tempo Ah ok Quindi adesso do la risposta giusta perché l'ha detta lei Bruttazza Occola grazie Ma posso farlo tutte le volte che voglio Non ho capito Sapete che non mi ricordo neanche adesso Quale cazzo era la risposta? Io neanche con sto dono riuscirei ad andare bene a scuola Cioè sono un caso perso La daguerrotopia Esatto questa Ciao sua punta della lingua Grazie prof Studiato tutto Va bene ragazzi allora dobbiamo riuscire a finire questa lezione Anima di Ok a posto Eh beh A questo punto di vedere no Ma pensi Mi immaginate che figo Non so se sarei in grado di salvare una tizia che ha dei capelli blu Ci sono dei problemi Spero di avere abbastanza tempo per arrivare in bagno Ti prego Amiche ma prima ho bighello nato un'ora e mezza per la scuola Figurati se non c'hai tempo Ok Perfetto Poi questo era il bagno delle donne a parte quello Ok Max Retrace ogni passo Butterfly flew in E ho fatto una foto Secondo me ragazzi tutto questo è partito dalla farfalla Non so perchè Faccio io faccio io Cappanella lo sapevo che potevo farlo Che ne sono Questo Veloce Oh Casualmente c'era un martello sotto il Vabbè va È già successo? Oh cazzo Sorry sono lento nelle cose Tranne nel sesso Ok Vai 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 sposta veloce però zia Ok Ok No way Don't ever touch me again freak Un altro Un altro giorno Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Quanto vi sta simpatico sto tizio Ciao zio Micchia sei un figo Ti adoro È il preside? Giorno Ma più o meno Uuuu Bella questa Eh raga Che ne so Cosa facciamo? Denunciamo Nathan o nascondiamo la verità? Il fatto è che se denunciamo Nathan Io che cosa farei nella vita reale? Ma si dai denunciamolo Vaffanculo I just saw Nathan Prescott waving a gun around In the girls room Nathan Prescott You sure? Mr Prescott happens to be from the town's most distinguished family And one of Blackwell's most honored students So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom Thank you for bringing it to my attention Prego zio Tanta roba After what I told you We'll continue this discussion later in my office Please go outside with the rest of your class now Miss Caulfield Vabbè Of course this academic drone won't do anything This icon indica che l'azione avrà delle conseguenze per rivolgere il tempo per cambiarne l'esito Lasciata questa zona non potrai annullare le tue scelte Ok Ah ok quindi ho ancora tempo per cambiare quello che ho fatto Se no me ne vado Vabbè me ne vado Bella Vabbè ragazzi concludo qui l'episodio di Life is Strange il primo Spero che vi piaccia perché è un po' diverso dalle videogame che faccio di solito Però è figo Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Potete sapere nei commenti cosa ne pensate Come al solito video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace Anche la pagina di Facebook come vi ho dato nella descrizione Sono i rischi di schiena e ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao